prestate attenzione tutti a me mercoledì alle 20 e 50 su Rai 2 ancora un grande classico della fabbrica dei sogni di Walt Disney la spada nella roccia chiunque estrarrà questa spada da questa roccia e da questa incudine sarà di diritto re d'Inghilterra la spada nella roccia questa sera alle 20 e 50 Rai 2 ti amo signora se per la distanza io non ci tengo affatto non mi formalizzo che che ti amo ti desidero e io no bacio ancora tua bocca piena di fuoco certo poi